E terminiamo parlando di sport, perché per celebrare i 50 anni dalla prima vittoria di una squadra italiana nella Coppa dei Campioni, il Milan di Nereo Rocco, Regione Lombardia ha organizzato un evento proprio nella sede di Palazzo Lombardia per riflettere anche sul valore dello sport e di come è cambiato il calcio negli ultimi decenni. Sentiamo il servizio. Siamo molto felici, siamo molto grati di questo. E' bello essere la squadra più titolata al mondo, avendo cominciato a vincere 50 anni fa. Il riconoscimento che la Regione ha voluto dare a questa semplice cerimonia viene dal profondo del cuore ed è dedicato ai campioni di allora, quelli che non ci sono più, ai campioni di oggi e ai valori dello sport. Questa per me è la cosa più importante. Spesso si abbina lo sport a modelli di comportamento che condizionano i giovani, non sempre in modo positivo. Noi abbiamo voluto sottolineare come Regione Lombardia il valore che diamo allo sport come lealtà, come onestà nei comportamenti. Si può parlare di cultura dello sport? La cultura dello sport, innanzitutto la cultura di valore di cui parlava il Presidente prima e quindi lo sport inteso come etica, quel valore che spesso ultimamente si crede perduto o che i fatti di cronaca degli ultimi anni non sempre hanno valorizzato come etica dello sport, ma per altre ragioni. Tra il suo assessorato delle culture e identità con quello dello sport, allora ci potrebbe essere qualche iniziativa in comune? Penso a qualche iniziativa che valorizzi i giovani, perché alla fine dobbiamo pensare ai giovani al futuro, quindi penso che su questa linea di indirizzo si possa pensare a delle iniziative comuni. Ne parlavo proprio poco fa con l'assessore e con il collega Rossi e è importante che i giovani riscoprano dei valori fondamentali per la società. Sono bei ricordi, qualche volta si convive, si rivive con i vecchi amici in quel momento particolare, poi ce ne sono stati altri, il primo poi tante volte è quello che lascia il segno maggiore. E' stato il più grande Milan della storia o il più grande Milan della storia è quello di Berlusconi? Il più grande Milan della storia è sempre lo stesso che vince. Il calcio è molto cambiato, cos'è che piacerebbe tornarsi di quei tempi? Io credo che indietro nel mondo non si tornerà più a fare niente, il calcio è cambiato perché è diventato più atletico, più determinato sul piano fisico, insomma è migliorato sotto quell'aspetto ed è peggiorato un po' sul piano tecnico e bisognerebbe invertire la rotta. Perché le squadre italiane faticano ancora in Champions in questo ultimo periodo? Perché credo che si stia pagando un errore fatto quando si sceglievano i ragazzi più sul piano fisico che sul piano tecnico e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Si è pensato poco a lavorare con i settori giovanili sperando che all'estero tutti lavorassero per le prime squadre italiane. Forse per un po' di tempo è stato possibile fare così, adesso non ci sono più i giocatori che vengono volentieri in Italia perché in altre parti del mondo guadagnano molto di più e quindi bisognerebbe reinvestire sui settori giovanili e costruirsi in casa il futuro.